Ehi Steph, finalmente siamo in un gioco in cui io mi sento a casa, sei con me nella prigione e potrò insegnarti la vita da carcerato Ma non mi interessa, grazie Come no? Devo restare solo 5 giorni qui dentro, quindi... Aia, Fere! Cosa hai detto? Cosa hai detto? No, no, mi interessa, mi interessa Ok Mi interessa Sono entrato con un bandito Arrivo, 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 arrivo Sono entrato con un bandito dentro la banca, sta aprendo le porte, non so dove sta andando ma sto per appinare la banca Bravissimo Eugenia de derobery, ok Ok, 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 è suonato l'allarme, è suonato l'allarme, non so cosa devo fare C'è un parkour E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Steph, e che stai chiamando Roblox E oggi siamo qui con Jail Break, ovvero la mappa più giocata del momento in assoluto È abbastanza simile a Prison Life, ma ci sono molte più cose da fare Esattamente, ha fatto il record di sempre di Roblox con 75.000 persone in diretta che giocavano Record assoluto, quindi deve essere per forza bellissima, la proviamo per la prima volta insieme a voi Questi giorni un po' troppe cose sulla prigione, però vabbè dai, è andata così Fere Niki è felice, quindi va bene così C'è capitata così a pennello, cosa pretendete che io non la giochi, ma scherziamo Figuriamoci Qua che cos'è, la mensa? Qua vengono a trovarci la tua famiglia o la fede, è una famiglia tu? No No L'unico che mi viene a trovare è qui con me, signor maialino Quindi io non ricevo mai visite, poi sto bene qua, quindi perché la gente dovrebbe venire a trovarmi Lo so, io stavo giusto chiedendo Che poi, capito, se mi vengono a trovare e vedono che sto troppo bene, vogliono venire qui anche loro e mi disturbano Ah, certo Quindi preferisco stare per i fatti miei Guarda È appena venuto a trovarti un consolino Fere Oh mio Dio Fere 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 Ma perché non c'è la mia faccia qui? Questo è il tuo obiettivo di oggi Sì, sì, finire tra i ricercati Proprio qua la mia faccia gigante Gigante Enorme Oh mio Dio È il tuo obiettivo Probabilmente quando vadi diventi ricercato, quindi questo è il mio obiettivo di oggi Andiamo, andiamo, andiamo Allora, qua dove si mangia? Non so se possiamo mangiare per davvero Andiamo a vedere Anche perché non c'è nessuno che lavora alla mensa Scusate, abbiamo fame? Dei distributori, secondo te, funzionano? Ok, no, non abbiamo monetine Non funzionano Non funzionano Abbiamo questo problema Lo tiro visto nei cestini Qua c'è fame, non ci danno nulla Però no, neanche i cestini mi danno niente Mi piace Ok, ok Beh, se nessuno ha mangiato e nessuno ha buttato nulla nei cestini C'è un senso in tutto ciò Eh sì, sì, peccato Avrei voluto fare uno spuntino ma non ce l'ho da Vabbè, allora andiamo da qualche altra parte Non è una bella prigione questa, insomma Fede, guarda che bella la mia cella Vieni, vieni, vieni Bellissima, bellissima Ti piace? Ti puoi sedere, puoi fare un sacco di cose L'ho arredata io, eh Sicuramente l'ho arredata Cosa c'è lì sotto? Dov'è? Ma lo vedi? Fede, è un gabinetto No, i cassetti sotto il letto Cioè? Ti vedi? Ah Non capisci nulla, guarda Che cavolo mi fai il gabinetto Guarda Pensavo stessi guardando il gabinetto Probabilmente qua nascondi Ci nascondi gli oggetti che trovi in giro Che rubi E poi guarda, ti puoi anche caricare, guarda Stile di escapist Ma Fede, si dorme al contrario normalmente No, io dormo a pancia ingiusto benissimo così Ciao, buonanotte Ciao Fede, a domani Anche se quella è la mia cella Ciao No, ormai me la tengo io Ok, Fede Cerchiamo di emozionare il poliziotto Arrivo Ma vedi che io non gli faccio danno con i miei pugni Guarda Vai brava Aspetta, aspetta Brava Dai Ce la facciamo, ce la facciamo Sì, 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 sì Ok, ho preso la card Allora, allora, allora Sì, seguimi, seguimi, seguimi Ok, ho preso la pistola io Allora, entriamo nella zona dei poliziotti Prendi immediatamente un fucile a pompa Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio No, mi hanno chiuso fuori Si è chiusa la porta, mi devi aprire Aspetta Mi devi aprire Fede Sono andato, ti posso aiutare Fede attenta perché pieno di gente mi hanno incastrato Sei entrata? No, continuo a incastrarmi Non riesco a entrare Porca miseria C'è troppa gente Prendo un fucile a pompa Lo ammazzo Perché c'è di nuovo un poliziotto dentro Ok, ok, ok Uh, ucciso Aspetta che uccida anche l'altro Oh, ma mi sto perdendo il divertimento Mi sto dannato a porta Fede arrivo Ah Entra Arrivo, arrivo Togliti Attenta ai poliziotti, eh Ok Attenta ai poliziotti Allora, voglio un fucile Questo, questo, questo Dannazione Ma perché però possono tornare in vita proprio qua? Così è impossibile Eh, però aspetta Adesso ci sono pure io Mi dai una mano? Sì Eccomi Vero, aiuto Lo sto ammazzando Mi vuole ammanettare È un pazzo sto poliziotto No, no, è pazzo, è pazzo Vabbè, giustamente Schiazza Ok Ok, ok, ok Esci, 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 esci Ti rubo anche la pistola Togliti, togliti Aspetta Apri mi Vai Che ansia Vieni Bravi Prendiamo la macchina nella polizia Prendiamo la macchina nella polizia Ok, vai, 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 vai È suonato l'allarme È suonato l'allarme Che emozione Ok, sali Ok, ci sono, ci sono, ci sono Guardalo ancora, il poliziotto è un pazzo Guardalo Non dè morde Criminale Ok, l'ho riuscito, l'ho riuscito Mamma mia, ma che criminale Sali Poveraccio, sta cercando di fare il suo lavoro E noi continuiamo a ucciderlo Allora Ok, si sta aprendo Via, 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 via Siamo liberi Siamo liberi Adesso possiamo correre, nascondirci, rapinare banche Sì Quindi la città è super interattiva Possiamo fare un sacco di cose Esattamente Andiamo a rapinare una banca? Dai che bello, andiamo a rapinarla Grazie, vero? Allora, compriamoci una casetta Facciamoci qua Se ne è accorto? No, 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 non se ne è accorto Non se ne è accorto Come stanno accendendo le sirene? Così sembriamo Oh Siamo poliziotti Oh Tutti tranquilli Guarda cosa tutto posso fare Ho visto adesso i tasti Posso fare le shiftate Poi Le driftate Senti il clacson Sì, lo sento, sento Posso fare il bagliore Accendere la radio E infine con F le sirene Oh, ma un sacco di cose Ok, allora Dobbiamo trovare una banca Allora, banca c'era scritto in gigante Tipo bank E dobbiamo rivedere la scritta Perché era abbastanza evidente Ok, però un attimino Vieni con me Dove? Non c'è nessuno in zona? No, ok Questa qua secondo me è un'altra base dei poliziotti Ok E infatti Aspetta un po', una bella pistola Allora Un altro fucile Fucile otta pompa La divisa non si può rubare Purtroppo non possiamo far finta di essere poliziotti Però È un peccato Al pieno di sopra cosa c'è qua? Perché magari hanno nascosto qualcosa di ancora più raro Ci poteva essere l'elicottero, peccato No, peccato Però li ho visti qualcuno infatti in giro con l'elicottero Quindi sicuramente l'hanno appena appena preso Sarebbe stato bello, sarebbe stato bello Non c'è un tasto per farlo riapparire Allora, in Most Wanted ci sono io e non ci sei tu Cioè li ho uccisi Vieni a vedere Vieni Fere Guarda Te l'ho detto, è questione di faccia Io la faccia Aia Fere, dai, non ammazzarmi Che siamo arrivati qua dopo tanta fatica Non è giusto Andiamo a fare una rapina Io te l'ho detto che Roblox ce l'ha con me Che è un complotto contro di me Io l'ho già detto dallo scorso episodio E continuo a dirlo Sali in macchina Fere È notte Ho visto E questa è quella banca Ma me l'aspettavo un po' più Ma non è che chiusa E vabbè Prova entrare Opla Closed Non si apre Fere Perché è chiusa Proviamo a fare il giro Magari c'è una porta nascosta No, è semplicemente chiusa E forse non ci puoi entrare quando è chiusa Non ha molto senso Però Ecco ho trovato la porta Avevo ragione io Ma non si apre lo stesso Porca miseria Fere Allora Togliti No Fere Togliti Si fa così No, non funziona Non funziona Di solito si fa così Allora Ragioniamo Siamo persone intelligenti Se con la chiave da poliziotti Non si può entrare Servirà un'altra chiave? No, secondo me no Perché abbiamo ucciso i poliziotti Un sacco di volte La chiave è solo quella Vediamo questo qua È arrivato un tipo Ha una chiave anche lui Ma non si apre Forse è perché è notte Forse dobbiamo aspettare Che diventi di nuovo Vedi Dobbiamo aspettare Ok amico Ok Perfetto Però fidati di me Nascondiamoci Ok E aspettiamo il giorno E poi andiamo in pavidi A rapinare la banca Esatto Guardati dove ci fermiamo Adesso ti faccio vedere Aspetta che è un po' difficile Guidare la macchina Ok dove vuoi andare? Allora Noi ci nascondiamo In questo vicoletto qua Ah Ok Proprio dietro la banca Esatto Ok tu controlla bene Se arrivano in ogni caso Siamo armati Esatto Siamo due Esatto A meno che non arrivano in massa Ne arriverà solo uno Quindi dovremmo riuscire a cavarcene Sì Speriamo bene Non ho capito Nel mentre che aspettiamo Che cos'è Quella cosa lì a sinistra Che ha la forma della banca Vedi c'è un problema Dimmi Adesso è giorno Probabilmente la banca è aperta Ma è pieno Zeppo di poliziotti Ascolta E se entriamo lì dal retro Senza farci vedere Probabilmente ce l'ho anche visto Probabilmente ce l'ho anche visto Allora Lasciamo la macchina parcheggiata qua Esatto Prepara il fucile Ok Caricalo E prepariamoci Prima persona Tu controlla lì dietro E io controllo qua davanti Aspetta Aspetta Lo vedi? Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Allontanati Allontanati Fai in modo che lui venga da noi Ok No ma ha fatto Mi sa che è ritornato in macchina Non capisco bene Ok sì Perché secondo me Voglio venire con la macchina Apro Non si apre Ma dai Come si deve aprire Sti accidenti di porti Forse è ancora troppo presto Scappa 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 Allora Continua a non vederci Cioè vabbè No 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 C'hanno visto Pronta a sparare Lo sto sparando L'ho circondato Aiutami Devo ricaricare Ok è morto Ok è morto No ti ha manettato Accidenti Fere No No Uccidi Uccidi l'altro da parte mia No Disgraziati Non mi toccare con quelle monete Ok Mi ho ucciso un altro Mi ho ucciso un altro Ipoiziotto Lo sto circondando Non mi ha neanche visto Pum 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 Ucciso No Ma come Ma No è arrivato quello dell'altra volta Te lo ricordi il pazzo Che ci dava problemi in tutti i modi Ah di nuovo Sì è arrivato Allora dove sei E mi ha manettato Sai che sei rimasto un criminale Non mi ha fatto tornare in prigione a me Non so come sia possibile Complotto contro Ferenichi Io lo dico Fere Lo dico Ma dai Tutte a me le sfortune Sono entrato con un bandito Arrivo 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 Sono entrato con un bandito dentro la banca Sta prendo le porte Non so dove sta andando ma sto per appinare la banca Bravissimo Allora Eugenia de de roberi Ok 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 Suonato l'allarme Suonato l'allarme Non so cosa devo fare C'è un parkour Ma davvero Allora provo Ui Ho già preso Ho perso già vita Ok Abbassati Abbassare Arrivo amico Arrivo 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 Che figata A che parte si è entrata Perfetto Ti voglio vedere E adesso cosa dobbiamo fare amico Sta piazzando il C4 Ma siamo pazzi Ma non ci fa male No Ok ok 150 200 250 300 Oh mamma mia C'è la polizia C'è la polizia E c'è sempre quello pazzo E' sempre lui Sempre lui L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Più sto qua Più soldi prendo Quindi più cerco di resistere Bello 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 Più soldi mi porta a casa Sono già mille dollari Devo scappare dalla banca adesso Allora Ui Ok Mi abbasso Mi abbasso Mi rialzo Salto Salto Ok Fucillo la pompa Ce l'hai fatta Quasi Devo fuggire Devo fuggire E credo che ci sia la polizia qua fuori Quindi è un bel problema Allora Scappiamo 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 Allora Fatto Mi sono portato a casa 2250 Ottimo Ottimo 2500 dollari Giusti giusti Per aprire la cassaforte La quarta Quindi Solo una Non esiste di più rara Compro e vediamo cosa trovo Allora Vai 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 Open safes Open Non so neanche che cosa sono Ma sono tutte cose per la macchina Io non l'ho capito bene Credo di sì Adesso andiamo anche a vedere Allora Ok Ok mi hai trovato un'altra leggenda Eri vai Apri 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 Che è la più rara in assoluto Dai qualcosa di bello Dai qualcosa di bello Dai qualcosa di bello Purple indie È qualcosa di rarissimo Credo Ma andiamo a vedere se sono qualcosa Per la macchina Andiamo un attimino Ok Nel garage al volo E vediamo di cosa si tratta Ok Allora salgo su questa macchina Amico Spostati Oh No bello Dai carina come cosa Molto bello poi quel colore Super tamarro Tra bella Bellissima Bellissima Bella 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 Quindi quello che ho guadagnato Scappando dalla prigione Rubando in una banca È una modifica della macchina Che mi fa diventare Troppo troppo figo E Ferenica invece È morta Poverina No non è morta Non è che sono morta Cioè Non sei arrivata C'ho l'intero universo Contro di me Quindi non sono riuscita A finire la bap Bella drammatica No perché dai Mi arrestano Arrestano anche te Io ritorno Nella prigione E tu invece stai fuori E già questa cosa Non è molto normale Faccio il puliziotto Che ti aiuto E mi ammazzano Perché le persone Se ti sto aiutando Sono geniali E mi ammazzano E vabbè Tutto il mondo È contro di me Direi che ci possiamo Fermare così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Nel caso da tanti likes Sondaggini No commenti Eccetera eccetera E ci fermiamo così Bella che se non riesce così Se ci lasciateci un like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscriverti Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao